cari amici oggi affronteremo una sessione speciale di peder fishing dedicata alla cattula dei big fish. Per questo motivo abbiamo scelto lo stupendo impianto di pesca sportiva il parco fluviale di Monte Cosa lo Scarro, sito in provincia di Macerata e gestito dagli amici Simone Rapponi e Giuliano Pelati. Un complesso costituito da ben nove laghi in cui è possibile praticare qualsiasi tecnica di pesca ed insidiare numerose specie ittiche e lo faremo in compagnia degli amici della Gordon Fish Paola e Andrea Bianchini e Massimiliano Fischi. Utilizzeremo due tecniche in particolare il proactive feeder utilizzando i chompers e i chummers di Misa e poi il method feeder con le facile montature che potremo osservare nel box tecnico. ed è subito Andrea in cattura con la sua concept 12 piedi live messa a dura prova con questo velo big fish. Infatti quello che intravediamo è un bellissimo centrale di carp e vivola anche nota come amor. Andrea è quasi convinto di poterlo guadinare non conoscendo essendo il suo elemento naturale il male la combattività e l'esistenza di questi pesci che spesso sembrano aver terminato le loro energie per poi ripartire prepotentemente. in questo avril di video. la sua strada quando la sua strada fuimos sul febretto è es Grazie a tutti. 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 Massimiliano. Grazie a tutti. 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 Naturalmente Paola non poteva stare a guardare e sotto la direzione tecnica del suo Andrea si cimenta in un bel recupero. In questo lago, grazie ad acque pulite e ossigenate, i pesci, una volta lavati, esigionano una potenza indescrivibile. Prima di passare saluti, un breve focus sulle attrezzature e pasture utilizzate in questa sezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.